Il principio di responsabilità è un principio fondamentale e serve per far crescere i ragazzi, per far acquisire maturità. D'altro canto un ragazzo deve anche rendersi conto che non è inserito in una giungla dove può fare quello che vuole, ma è inserito in una società. Dipende naturalmente da quante persone di provenienza non italiana abitano nelle prossimità di una scuola e naturalmente se si iscrivono, se iscrivono i loro figli, non è che si può rifiutare l'iscrizione su base relativa alla cittadinanza. Quindi io credo che onestamente questa discussione non porterà a grandi risultati e dunque non credo che mai si potrà arrivare, d'altronde sarebbe incostituzionale, a una discriminazione basata sulla provenienza. Da un lato le risposte che l'Ateneo ha dato rispetto alle richieste degli studenti sono state inesistenti perché la chiusura al dialogo e all'ascolto delle richieste non soltanto degli studenti ma anche di tutta la componente accademica, dei docenti e dei ricercatori che hanno portato delle criticità ma anche all'interno della seduta del senato accademico di ari non sono state minimamente ascoltate. Finché noi avremo le soluzioni e possiamo trovarle insieme non parleremo di preoccupazione. Le università sono dei luoghi dove devono celebrarsi prima di tutto le attività didattiche e un'espressione di libero pensiero. Le cose vanno chiamate con il loro nome. Noi tuteliamo la libera manifestazione del pensiero con un unico insormontabile sbarramento, la violenza. Sono sempre state, oltre che sede di approfondimento e trasmissione del sapere, luogo del libero dibattito, della critica e anche del dissenso nei confronti del potere. Via Libera del Senato al DDL Valditara, fortemente voluto dal ministro dell'istruzione, prevede diverse novità per quanto riguarda il voto in condotta in un momento in cui il comportamento degli studenti dai più grandi ai più piccoli, così come l'istruzione tutta, sono tornati prepotente nel dibattito pubblico. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata del TG+. Buonasera ai nostri ospiti, a cominciare da Manuela Calza, della Segreteria Nazionale FLC-CGL. Grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Buonasera a tutti e a tutti. Buonasera e benvenuto Francesco Rossi, dirigente scolastico del Liceo Montale di Roma. Buonasera a tutti gli astori e grazie per l'invito. E buonasera a Virginia della Sala, giornalista del Fatto Quotidiano. Ciao Virginia, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, Manuela Calza, io parto con lei, anzi parto facendo una precisazione per i nostri telespettatori. In questa puntata parleremo, come ho detto, di tutta l'istruzione, perché ci sono dei temi che stanno tornando prepotenti nel dibattito e li abbiamo più o meno inseriti tutti nel nostro blog di copertina. Partiamo dal decreto, dal DDL Balditarra, appunto questa riforma approvata ieri dal Senato che si articola su quattro punti principali e li vado a riassumere rapidamente perché si va a incidere appunto sul, si ritorna in un certo senso il voto di condotta, avrà un peso importante per l'ammissione all'anno successivo. Con il 5 c'è il rischio di bocciatura, oppure con il 6 invece bisognerà sostenere un esamino. Per quanto riguarda invece la scuola primaria, tornano i voti, i giudizi sintetici con valutazioni che partono da ottimo fino a gravemente insufficiente. Adesso invece si parla di livello avanzato, intermedio e base. I comportamenti violenti o aggressivi saranno puniti con delle multe che vanno da 500 a 10 mila euro e poi si rivede anche il sistema delle sospensioni fino a due giorni. Bisogna fare un'attività di riflessione, approfondimento e anche un elaborato critico alla fine del periodo di sospensione. La FLC CGL ha diramato oggi una nota dove parla, dice che la riforma valditara risponde alla logica securitaria e punitiva del governo. Chiedo a Manuela Calza di spiegarci perché la pensate così. Abbiamo sentito invece il ministro valditare che ad esempio sulla questione del voto in condotta rivendica l'obiettivo di responsabilizzare gli studenti, una cosa necessaria, perché fanno parte, come tutti noi, di una società. Sicuramente io credo che la responsabilizzazione di fronte ai propri comportamenti sia un valore innegabile e comunque qualcosa che la scuola proprio nella sua azione educativa trasmette agli studenti. Noi di fronte a questo provvedimento non ci siamo stupiti, non ci siamo stupiti perché risponde alle logiche che ormai siamo abituati a vedere nelle politiche di questo governo e nei provvedimenti assunti dal Ministero dell'Istruzione. Il modo di affrontare le problematiche a valle. In realtà si descrive una generazione di studenti come se fosse una generazione di piccoli delinquenti o potenzialmente tali, senza pensare che in realtà invece abbiamo sicuramente di fronte delle ragazze e dei ragazzi con fragilità che vivono una condizione difficile, una condizione difficile di chi non ha prospettive di futuro, dato quello che accade nella nostra società, insomma quello che c'è intorno a livello nazionale e internazionale. tra l'altro all'indomani dell'esperienza dei Covid quando questi ragazzi sono stati privati per due anni di relazioni, di rapporti con il mondo, con i coetanei, con la scuola, insomma. Ma di fronte a tutto questo cosa si sceglie? Si sceglie la strada, la strada più semplice, più immediata, diciamo, che è quella di usare il pugno duro, la repressione, la condanna e il respingimento. E tra l'altro, e non è sicuramente un dettaglio da poco, bypassando completamente lo statuto delle studentesse e degli studenti, che è quello sì uno strumento di dialogo, di confronto e di responsabilizzazione. Io credo che di fronte a dei comportamenti che vengono ritenuti non adeguati, scorretti e a volte anche violenti, gli strumenti c'erano e ci sono. La scuola ha la possibilità di adottarli, di metterli in campo, anche dal punto di vista sanzionatorio. Non serviva sicuramente offrirne di nuovi, ma piuttosto noi pensiamo che occorra agire a monte, mettendo al centro la realizzazione di ambienti deeducativi che siano generatori di benessere. E' inutile che io mi soffermi sul fatto che avremmo bisogno ovviamente di ambienti scolastici migliori, di più tempo scuola, della creazione di strutture, di infrastrutture, di più docenti, di meno alunni per classe, insomma, mettendo al centro proprio la cultura della cura nel senso di farsi carico. E adesso ci arriviamo a quello, però partendo dalla sua riflessione, quella che riguarda le possibilità che già ci sono di sanzionare eventuali comportamenti aggressivi degli studenti, vado dal dirigente Francesco Rossi, perché è stato, su malgrado penso, protagonista di una vicenda lo scorso dicembre, se non sbaglio, in seguito all'occupazione del suo liceo, cioè durante l'occupazione del suo liceo, sono state fortemente danneggiate le strutture della scuola, se non sbaglio lei ha anche chiamato i carabinieri e allora le chiedo, ma in quel caso come avete risposto? Siete riusciti a individuare i responsabili, a sanzionarli? Ecco, se accadesse oggi, comunque quando il DDL Valditara sarà a pieno regime, cosa cambierebbe? Allora, buonasera. Innanzitutto una premessa, il DDL Valditara non giunge ex novo come intervento normativo, ma va a novellare delle leggi, addirittura il DPR del 1998, quello dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, che sono l'una del 2017, il decreto legislativo 62, e l'una del 2009, il DPR 122. Quindi, era forse tempo, perché sono cambiati i tempi, di novellare e dare strumenti ulteriori, che non sono quelli soltanto di repressione, ma sono anche quelli di riflessione comune negli ordini collegiali competenti verso atteggiamenti che sicuramente hanno avuto un'escalation negli ultimi anni da parte degli studenti e delle studentesse. E quindi, ad esempio, quello dell'occupazione è uno dei casi più lampanti, dove accostare al necessario intervento della forza pubblica, in quanto l'occupazione è un reato, e come reato va denunciato e contrastato, all'ulteriormente necessario intervento educativo. Innanzitutto, questo decreto legge non travalica le competenze che rimangono, e che già ci sono, dei consigli di classe. Nel caso del liceo montale, i consigli di classe hanno scelto di accostare a dei giorni di sospensione quelli che qui vengono declinati meglio, e che prima erano i lavori socialmente utili, cioè ciò che i ragazzi possono fare per aiutare la comunità in modo tale non tanto da riparare il danno che hanno compiuto, quanto per metterli in discussione, ad esempio nell'occupazione, su quanto fatto, cioè sulla distruzione di alcuni delle suppellettri, degli immobili della comunità, che sono della comunità. Allora, il consiglio di classe, il consiglio di istituto, restano padroni del regolamento di istituto, restano padroni di irrogare sanzioni, esattamente come era prima. Viene messo a sistema, però, e viene data una possibilità ulteriore di declinare queste sanzioni, con quello che noi abbiamo fatto, facendo fare a dei ragazzi degli interventi educativi alle loro classi, in cui hanno spiegato ai loro compagni quali sono gli errori di un'occupazione attraverso un PowerPoint, attraverso una vera e propria esposizione, anche a livello legale si sono informati, e che adesso diventano anche patti di comunità, li possiamo definire, anche, diciamo, azioni verso le comunità territoriali per le sospensioni, ad esempio, superiori a due giorni. Insomma, il dirigente Rossi ci dice che non c'è soltanto appunto questa declinazione di carattere punitivo, ma si impara anche, i suoi ragazzi lo hanno dimostrato. Virginia Della Sala, che per il fatto quotidiano si occupa di scuola e di università, ragioniamo in maniera un pochino più ampia, proprio perché, riprendo il nostro blog di copertina, tanti temi sono tornati al centro del dibattito, le quote per gli studenti stranieri, il caso Pioltello, adesso le questioni di condotta, per non parlare delle proteste degli universitari. Ma, restando nella scuola, che idea ti sei fatta tu del progetto Valditara? Allora, il progetto Valditara in realtà è per la prima volta, possiamo dire dopo tanti anni, non siamo di fronte all'ennesima riforma del sistema scolastico, universitario, il che di base potrebbe essere una cosa positiva. Il problema, secondo me, è che Valditara utilizza il territorio scolastico, tende a fare questo, o almeno quello che si vince, secondo me poi valutando i fatti, per, a volte, della propaganda, o comunque delle decisioni che sfiorano la propaganda. E emerge, diciamo, proprio dal fatto che molte delle novità che ci sono, sono novità, non sono delle grosse novità, gli strumenti erano già a disposizione, il potenziamento di questi strumenti e la loro definizione, comunque nella libertà dell'autonomia scolastica, quando si parla, ad esempio, delle quote di studenti stranieri all'interno delle scuole, ci si rende conto anche in quel caso che legge limiti esistono già, qualora venissero applicati, applicati bene, così come in realtà i dati raccontano che l'emergenza, che viene rappresentata spesso dal ministro, in realtà è un'emergenza totalmente inesistente. L'ultima è stata l'annuncio di questa norma che dovrebbe vietare delle festività non riconosciute dallo Stato, la grande difficoltà sarà capire appunto come si scriverà questa norma, visto che le scuole godono della settimana bianca, se non sbaglio. Esatto, esatto. Non è una festività riconosciuta dallo Stato. Ad oggi scuole comuni, e perché anche le province stesse, hanno la facoltà di chiudere le scuole per i più disparati eventi, quindi magari ci sarà una formulazione che sarà però soltanto formale, perché poi, a meno di non andare a colpire l'autonomia delle scuole, che aprirà sicuramente i ricorsi, ci sarà il modo di aggirarle. Insomma, quindi... Quindi Virginia Sala, insomma, dice che ci... Della Sala, perdonami, ci dice che molte sono, possiamo anche definirle, qualcuno le ha definite, misure da talk show. Quello che non è da talk show, quelli che non sono slogan, sono forse i bisogni dei ragazzi di oggi, e poi dire ragazzi di oggi è anche fare un po' una generalizzazione. Le scuole, così come dicevamo, come le università, ma i giovani in generale stanno cercando solo in un momento in cui cercano il loro spazio, in una società dove però le istituzioni sembrano sorde ai loro bisogni. Lorenzo Capezzoli Ranchi. La riforma che prevede un maggior peso al voto in condotta nel paese dei banchi a rotelle porta a una nuova frattura. Lo strappo non è tanto generazionale o anagrafico, ma di ruolo, o meglio, di professione. Politici e politicanti da una parte, studenti e giovani dall'altra. Eh sì, perché nell'Italia post-pandemica, che ha messo definitivamente in diversi depositi le sedute semoventi di azzoliniana memoria, c'è un problema di comunicazione con chi sta in cattedra. E i giovani, se inascoltati, scoppiano. Le tensioni delle ultime settimane sono la valvola di sfogo per una generazione che, forse mai come oggi, si sente inascoltata dalle istituzioni, incapaci di fare proprie in maniera efficace le loro istanze. Partiti e governi che poi sono costretti a repentine retromarce, a correzioni, a dietrofront. Giovani che sono tutt'altro che disinteressati alla cosa pubblica, sia chiaro, tanto che scendono spesso in piazza. A inizio anno, per esempio, per chiedere il rifinanziamento del Fondo per i Disturbi Alimentari, inizialmente azzerato dal governo Meloni, avevano riempito le strade anche per chiedere la giusta attenzione sul tema della salute psicologica e contro l'autonomia differenziata. Occupato anche gli Atenei per chiedere lo stop ai bandi di collaborazione con Israele. Così, senza confronto, si arriva direttamente allo scontro, ma anche alla disaffezione. Il mancato interesse che si tramuta in distacco e che vede in uno dei suoi riflessi cristallizzato il non-voto. L'astensionismo nella fascia fra i 18 e i 34 anni è al 43%, perché in fondo dovrei interessarmi di ciò che non si interessa a me? Nel momento in cui il voto di condotta ritorna quindi al centro del dibattito e della riforma voluta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ci sentiamo almeno di rimandare il governo sul tema dell'ascolto. Manuela Calza, cosa serve alla nostra scuola? Ce lo accennava prima, ma allargherei la domanda ai nostri ragazzi. Insomma, è evidente che già nel servizio appena concluso si evidenziano proprio dei bisogni da parte dei ragazzi, dei giovani, che è quello di partecipare, di essere protagonisti attivi anche di un cambiamento che loro vogliono vedere e che anche noi vorremmo vedere nella società che ci circonda. E quindi io credo che proprio partendo dall'ascolto, ma partendo anche dagli atteggiamenti che favoriscono la partecipazione. Oggi mi spiace davvero dover contraddire il dirigente scolastico, ma io sono sorpresa del fatto che un uomo di scuola possa dire che il problema sono le occupazioni quando in realtà invece sappiamo che siamo in una società dove il vero allarme è costituito dal fatto che il 50% e più della popolazione non vota, dalla disaffezione nei confronti della partecipazione, dalla carenza di riconoscimento anche delle istituzioni, della politica e quant'altro. Io credo che i giovani vadano ascoltati, ma io credo che anche vadano offerti loro degli spazi per essere protagonisti della loro vita, del loro futuro e della società che li circonda. Quindi è evidente che quello che ci compete come generazione di adulti, come educatori, come appunto persone che si occupano dei ragazzi e delle ragazze sia quello di creare le condizioni favorevoli perché loro effettivamente possano trovare degli spazi di espressione. Nulla si giustifica con la violenza, ovviamente nessuna parola di tolleranza nei confronti dei comportamenti che poi a volte si traducono che si possono tradurre anche in azioni violente. Ma io penso che davvero quello che noi oggi dobbiamo denunciare è invece la volontà di togliere spazi di partecipazione ai ragazzi e alle ragazze perché davvero non è così che noi formiamo le nuove generazioni. Questo spauracchio del ritorno del 68 come se fosse l'origine di tutti i mali per cui chi va nelle piazze viene manganellato o chi occupa le scuole viene denunciato. Insomma, io credo davvero che noi abbiamo una responsabilità grande, abbiamo una responsabilità di creare delle condizioni favorevoli e che consentano davvero a questi ragazzi di essere protagonisti, di guardare al futuro con fiducia e di poterlo cambiare comunque il contesto che si prospetta per le loro vite. Rossi, stiamo dando ai ragazzi questi strumenti di cui parlava Manuela Calza? Ma se il protagonismo dei ragazzi si traduce in reati è chiaro che non è possibile permetterglielo mi dispiace contraddire la dottoressa Calza stiamo dando questi strumenti li stiamo dando anche in maniera più ampia rispetto a quanto accaduto in precedenza. Li stiamo dando perché le scuole si stanno attrezzando con le linee guida del PNRR per interventi che sono rivolti proprio alla chiusura di quei divari educativi che spesso avvengono quando gli alunni si iscrivono alle scuole superiori e che adesso saranno anche dati finanziamenti che adesso verranno anche dati alle scuole primarie agli istituti comprensivi. La scuola si sta interessando dei ragazzi attraverso gli sportelli di ascolto psicologici che sono sempre più frequenti nelle scuole e con molte più ore rispetto a prima. Nel Lazio ad esempio c'è stato un bando regionale che ci ha dato la possibilità di dedicare agli sportelli di ascolto psicologici più di 5-6 ore a settimana. La scuola si sta attrezzando nell'ascoltare i ragazzi nei luoghi deputati all'ascolto dei ragazzi e anche fuori dai luoghi deputati all'ascolto dei ragazzi quindi non solo nell'organo collegiale deputato nella scuola superiore in cui i ragazzi sono rappresentati e cioè il consiglio di istituto ma anche e i consigli di classe ma anche nel continuo dialogo con loro dialogo che viene interrotto nel momento in cui c'è una reazione che non è corretta ma l'interruzione del dialogo anch'essa è un momento educativo perché il dialogo poi riprende come ho detto prima non solo ma vorrei aggiungere anche un altro fatto la scuola si trova a dover affrontare a monte di tutto ciò un'emergenza educativa enorme che è senza voler accusare nessuno ma soltanto volendo fornire uno spunto di riflessione l'emergenza che viene dalla crisi della famiglia la crisi della famiglia che la scuola non vorrebbe mai non avrebbe mai voluto affrontare perché la scuola non può sostituirsi alla famiglia non può sostituirsi ai genitori e non deve fare ma è un dato di fatto e lo vediamo tutti i giorni con i colloqui che noi abbiamo con i genitori che in questo momento i ragazzi gli adolescenti soffrono molto la condizione delle famiglie in cui vivono non tutte ovviamente senza generalizzare e questo crea dei momenti anche di aggressività e delle reazioni di questi ragazzi che vanno attenzionate finché è possibile però perdoni dirigente questa è responsabilità di famiglie magari in difficoltà della politica ma responsabilità della politica forse è anche l'ascolto che dicevamo non solo la scuola dove appunto io ci credo che la scuola lo fa la scuola di oggi allora vado da Virginia della Sala così andiamo anche a concludere come mai non si riesce a trovare un punto di dialogo e si finisce spesso in realtà con i contesti in questi giorni di ragazzi più grandi universitari al muro contro muro allo scontro guardi penso ci sia un equivoco di base che è emerso anche in questa discussione cioè sovrapporre come dire il reato e la difficoltà familiare o comunque del contesto da cui provengono gli studenti con invece la necessità degli studenti di esprimere la propria voce e il proprio pensiero le due cose non sono come dire direttamente sovrapponibile lo dimostra il fatto anche che spesso le occupazioni più violente avvengono in centricità dove i studenti sono di estrazione magari sociale più alta quindi io non sovrapporrei le due cose non si riesce perché diciamo laddove ci riperiamo ai contesti di protesta quindi parliamo delle occupazioni a scuola ma anche delle proteste di questi giorni di università di cui vediamo le immagini laddove dall'altro lato non si trova un dialogo aperto io credo che le proteste di questi giorni abbiano dimostrato proprio questo cioè negli atenei dove c'è stata una discussione aperta o comunque una voia di confronto reale da parte anche dei rettori le violenze le proteste sono state più contenute e costruttive e mentre invece laddove invece c'è stato un muro ovviamente anche il corpo studentesco si sente ascoltato e cuva ovviamente un rancore maggiore chiaro poi ci sono sicuramente i casi più estremi ma cominciare a dar via un dialogo aperto e onesto cioè nel senso non pregiudizievole da parte di chi gestisce l'università e l'istruzione è sicuramente un modo per insegnare anche ai ragazzi stessi come si come si dialoga altrimenti si insegna chiusura e si ottiene chiusura ecco io la vedo in questo modo e dal proposto oggi è stato votato sono state votate le linee guida per una buona prassi in l'università Virginia Sara giornalista del Fatto Quotidiano grazie per essere stata qui con noi così come ringrazio Francesco Rossi dirigente scolastico del liceo Montale di Roma Manuela Calza segretaria nazionale della segreteria nazionale FLCCGL grazie grazie a tutti voi magari li facevamo salutare dico a mano in regia ma concludiamo con insomma una punta di ottimismo ma soprattutto con la satira il lavoro l'ultima riflessione del nostro vignettista di fiducia il fedozzo Manuel Mazzella ha curato la regia di questa sera da parte mia buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti